Bentornati su MyFootballJersey. Vediamo questa splendida maglia dell'Al Nassar. Questa è la terza in edizione fan. Devo dire però che sono veramente molto incerto perché secondo me è un'edizione player. Grazie a tutti. La maglia è stupenda. Come vi ho detto io l'ho classificata come fan perché l'ho ordinata come tale ma ho qualche dubbio. Ditemi voi cosa ne pensate. Il costo lo vedete qui sopra? Molto basso per una maglia fatta benissimo. Se volete maggiori dettagli trovate tutti i riferimenti qua sotto nella descrizione del video. Andate a vedere perché c'è anche un link per ottenere un coupon da 5 dollari quindi ancora più conveniente. Ora vi lascio la parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Prima però iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto. Alla prossima!